L'incontro col Ministro è andato bene, era già informato perché erano state fatte tutte le interlocuzioni tecniche prima di oggi. È chiaro che si tratta di un percorso non facile, questo lo sappiamo, il Ministro questo lo ha riconosciuto, però c'è la volontà, una volta approvata la legge che avverrà in queste ore, di sedersi subito intorno a un tavolo per provare a trovare un percorso condiviso che permetta al Trentino di avere degli interessi sulle famiglie e sulle imprese dalla propria gestione idroelettrica in questo particolare momento di difficoltà del sistema energetico, cioè riuscire ad avere dei vantaggi in bolletta per le imprese e per le famiglie e questo è l'obiettivo.